Per un bambino il ricovero in ospedale può essere un momento di grande tristezza e solitudine. Riaccendiamo la speranza nei suoi occhi. L'associazione di volontariato PETRA ha tra i suoi obiettivi la promozione dei diritti dei minori ed il miglioramento della qualità della vita dei bambini, con un riguardo particolare ai minori con abilità speciali. I bambini e le bambine sono il nostro futuro. Rispettiamoli ed aiutiamoli a crescere con amore. Grazie a tutti.